Presidenti, tesserati e società, siamo tutti più contenti se c'è gene in Serie A. In Serie A, Serie A, Serie A, gene e gnocchi in Serie A, Gene e gnocchi! Per un calcio con il cuore, gene e gnocchi in Serie A. In Serie A, Serie A, gene e gnocchi in Serie A. Per un calcio che non muore, gene e gnocchi in Serie A. Vogliamo un calcio più pulito. E' bellissimo! Ma sono... veramente... se non ti chiamano in Serie A, guarda... Abbivano un sacco di mail, pazzeschi. Lo so, ma infatti, intanto l'Atalanta è disponibile a farti un po' vino. E' anche...